Sì, ma guarda il canale del draghi Sperfì Due alternative, scegliene una Facciamo che parli in prima persona Ti porto in un ristorante super stellato Incredibile, dove si mangia da Dio O tipo in un ristorante Un po' di famiglia, dove tipo andavo Cioè conosco bene, dove conosco anche i camerieri La seconda Sì? Ti sei bloccata un attimo Sì, 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 la seconda Preferisci che Pago io tutto? Che ti dico dividiamo O che ti dico paga tu? Sinceramente dividere va bene Però se mi dici guarda paga tu perché non ho niente Dico tra, cioè non è un problema Veramente, se io ti porto da Cracco Il conto sono 1700 euro Ti dico paga tu, non ho una lira, scusami No, è quel casico, guarda non ce l'ho neanche io E se lui, io ti dico dai Che è? Guarda se vuoi te so Da Cracco faccio la metà Non capito Fai finta che è il tuo compleanno Ok? Ok Il ragazzo che ti piace ti può fare due regali Ok? Regalo numero uno Anzi no, il tuo fidanzato Ok? Regalo numero uno Una scatola di cioccolatini Con scritto dentro In ogni cioccolatino Ho fatto mettere dei bigliettini Con scritto tante cose belle di te Ok? Ok Opzione numero due Un c***o di gomma Con un preservativo XXL Con scritto sopra un bigliettino Con scritto stasera ti sfondo No, la prima sicuramente Sì E se invece stasera ti sfondo baby girl O tipo amore mio, principessina, cucciolotta Non cambia un c***o Zero Mi sembra il filo Cioccolatini Non ho capito Drago Freebooter 2 Ti seguo Bomba comunque Grazie Del supporto